Basco Rossi basta poco alle 9.40 e sembra che basti davvero poco per muoversi in certe direzioni ma talvolta ci sono delle circostanze avverse e che ci pongono di fronte a dei problemi e a dei bivi come si suol dire, vero Elena? Esattamente, è proprio così. Parlavamo poco fa di situazione ricostruzione post terremoto e dell'ordinanza del 20 febbraio scorso con la quale il commissario Maroni ha sospeso per quanto riguarda la regione Lombardia in via cautelativa appunto le assegnazioni di contributo per il ripristino di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati appunto dagli eventi sismici del 2012. Esatto. E questa mattina con noi c'è proprio il sindaco di uno dei comuni coinvolti che sono stati colpiti dal terremoto di quell'anno, il sindaco di Moglia Simona Maretti. Sindaco, buongiorno, benvenuta su Radio Pico. Sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno sindaco. Allora, com'è la situazione? Cosa possiamo dire in apertura? Sì, beh, la situazione naturalmente non è delle più felici perché siamo molto in apprezzione per i fondi. Già avevamo una grossa carenza sui fondi per la ricostruzione pubblica e dal mese di novembre, dicembre, primo di dicembre si è evidenziata a causa la chiusura dei termini per la presentazione delle domande anche una carenza significativa di oltre 300 milioni per quanto riguarda le case, quindi privati e le imprese. E naturalmente parte immediatamente la corsa nei confronti del governo per chiedere i conguagli che ci dovevano essere garantiti con dati alla mano che appunto evidenziano come il danno sia stato sottostimato fin dall'inizio. Sindaco, la sospensione degli indenizi avrebbe lo scopo di consentire alla struttura commissariale proprio di redigere di nuovo l'elenco cronologico delle domande di contributo presentate. Lei però so che non è d'accordo, vero, sull'ordine cronologico? Purtroppo premetto che l'ordine cronologico è quello previsto dalle ordinanze, però il problema non si è mai posto nella misura in cui si riteneva, si sperava che le risorse fossero sufficienti anche perché, come dicevo, i dati reali sono arrivati soltanto a dicembre. Detto ciò, appunto, il criterio cronologico in questa situazione di insufficienza di risorse impone di capire come comportarsi. Ovviamente applicando le ordinanze la regione non può che fare al momento un elenco cronologico per capire, incrociando le pratiche di tutti i comuni, fino a quando, fino a quale numero di pratica ci sarà la copertura e quando non ci sarà più e di lì sarà necessario andare a integrare le risorse. Detto questo, è evidente che questo criterio cronologico diventa iniquo, nel senso che non prescinde da qualsiasi considerazione su prima casa piuttosto che seconda casa, fienili. Abbiamo l'obiettivo invece di far rientrare in casa prima possibile i nostri concittadini, di conseguenza abbiamo chiesto alla regione di considerare, insomma, attentamente gli effetti di questo criterio e di valutare la possibilità di introdurre delle deroghe, almeno fino a quando non saranno sbloccati ulteriori fondi. Beh, noi terremo monitorata la situazione, se ci permette di richiamarla lo faremo più avanti, quindi avremo modo e maniera di saperne di più. Intanto la ringraziamo per quello che ci ha fatto sapere. D'accordo, ci risentiamo allora. Va bene, grazie mille, Simone Amaretti, sindaco di Moglia, a presto, salve. Grazie mille, Simone Amaretti, sindaco di Moglia.